Stefano De Martino ha partecipato alla presentazione della nuova edizione di Affari Tuoi Incitato dai giornalisti ha parlato di Belen Rodriguez.Il conduttore partenopeo Stefano De Martino alcune ore fa ha partecipato alla presentazione della nuova edizione di Affari Tuoi Incitato dai giornalisti ha svelato delle piccole novità in merito al programma, poi ha parlato dell'ex moglie, nonché madre di suo figlio Santiago, Belen Rodriguez e del loro rapporto attuale Stefano De Martino, che rapporto ha con Belen Rodriguez oggi? La verità Lo scorso martedì 27 agosto si è tenuta la conferenza stampa per la presentazione della nuova edizione di Affari Tuoi Il programma passerà nelle mani di Stefano De Martino e andrà in onda a partire dal prossimo lunedì 2 settembre su Rai 1 Nel corso dell'incontro con i giornalisti non potevano mancare le domande su Belen Rodriguez, ex moglie del conduttore nonché madre del figlio Santiago Durante la conferenza stampa il conduttore partenopeo si è attenuto alle domande dei giornalisti e quando gli è stato domandato del suo attuale rapporto con l'ex moglie Belen Rodriguez non si è tirato indietro Ciò nonostante negli anni l'ex ballerino di Amici è diventato molto bravo a sviare i discorsi e ad utilizzare l'ironia per evitare di rispondere direttamente alle domande Il mio rapporto con Belen? Va tutto benissimo, la saluto e lei risponde. Quindi tutto bene Abbiamo una relazione tranquilla come due genitori separati e cordiali A partire dal prossimo lunedì 2 settembre il conduttore raccoglierà il pesante testimone lasciatogli da Amadeus e condurrà il suo programma Affari tuoi Non è la prima volta che il presentatore partenopeo eredita un programma abbandonato da Ama L'ex ballerino e volto di Amici ne ha parlato durante la conferenza stampa, raccontano i aver avuto modo di sentire il collega e parlare con lui Ci siamo scambiati dei messaggi. Scherzavamo sulla squadra della staffetta Per la seconda volta prendo in eredità un suo programma. Ogni volta che c'è questo passaggio, finora ha portato bene ad entrambi Amadeus ha lasciato step per iniziare la strada verso i 5 Sanremo Gli ho detto, speriamo porti bene ad entrambi. Mi ha fatto un in bocca al lupo e ha detto, vedrai che ti divertirai Infine il conduttore partenopeo ha risposto alle accuse che lo vedono vicino alla sorella della premier Giorgia Meloni, Arianna, ma la sua risposta è stata breve e tagliente Non la conosco, ha ammesso